Bonjour, bonjour a tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour Io sono Oraxor e sono secondo ma tra poco primo in Mayotte Raga vi giuro se c'è qualcuno di voi che cambia lingua adesso in live e vede più punti di me Siete dei scammatori allucinanti, quindi provateci e vi giuro che... A parte i scherzi, abbiamo pure Eglise che fa la sub Grazie Chris Bern Suss Quest'oggi siamo qua per fare l'ultima giornata di Sede di Potere Come stavamo dicendo in questo momento siamo secondi, vorrei arrivare primo E se nessuno, perché sto registrando questo video in live, quindi ricordo la live Che se fate cose strane, se cambiate regione, vi giuro GX Bomber e GX Lucius ieri non c'erano, quindi mannaggia Voi vi giuro che siete... Vabbè, fino a quando siete giù vi voglio bene Però se vostre state più in alto, come se ne potrebbe mai dire Anzi, come se ne potrebbe mai dire Comunque raga, direi che possiamo partire Oggi abbiamo Brawl Ball Possiamo partire Je suis prête No, che puoi raga, allora ci sarebbe da dire una cosa Perché giustamente io sono primo in Mayotte Ma cos'è Mayotte? Mi trovo ovviamente... Come vedete alle mie spalle, siamo in Francia Ho la torre Eiffel dietro, chiaramente non è un'immagine Siamo veramente lì, è questo il mio... Diciamo il mio appartamento che si trova proprio lì davanti Mayotte, ragazzi, non è altro che un'isola Che si trova a sud dell'Africa Ma che appartiene alla Francia Probabilmente sarà... Anzi, probabilmente io sono... Proprio di quella regione, sono del Mayotte Ovviamente è una regione che è stata acquisita dalla Francia Tanti anni fa, tramite le colonie Tutte quelle belle cose Attenzione, abbiamo Scudella RXL Scudella RXL Scudella È andato a fare gol Anzi, a fare gol Proprio lui Ma che poi sto accento è più... Forse tedesco che... Che franzè Ma a noi sta bene così D'arto canto Je suis raxor Un po' franzè E un po' tedesco Piovono baghetta alle mie spalle Eh, sì, di fatto sì Oh, eh, oh, caldo No, 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 no Ragazzi, 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 ragazzi Ho bisogno di... Beh, è bella sta kill però Mi è piaciuta, molto bene, sì Proprio noi, quelli veri, non dei... Oh, eh, oh Oh Vabbè, che di sta ultima Bella Mi l'ho tirata proprio bene Ragazzi, perché la vedo male? Ok, grazie mille per la palla Mamma mia Mamma mia Chiro la ulti Beh, sono ancora vivo Ragazzi, sono ancora vivo Com'è possibile che io sia vivo, ragazzi? Dai, forse vinciamo Dai, forse vinciamo Dai, forse vinciamo Non è vero Forse no Forse sì Forse sì Che scodella Proprio lui Quello vero Ragazzi Instagram di scodella E Michi Nella descrizione Mi raccomando passateci Che sono degli animali Allora, se ci portiamo a casa Entrambi i game Arriviamo a mille 52, 62, 72, 92 82, 92, 02 Sì Sì, raga Siamo primi Comunque, ragazzi Vorrei sottolineare Che questo è un video scherzoso Non prendetela seriamente Oh 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 Scodella Proprio lui Quindi, appunto Prendetela in modo scherzoso Perché qua ci stiamo Cringiando alle stelle E E, appunto Va preso come tale Attenzione, scodella Proprio lui, quello vero Non un fake Oddio, stavo vedendo cose incredibili Posso e dico posso Posso e dico Non posso, non posso Non posso Anche in Franza Non si può Vedete, questi qua mi sembrano abbastanza scarsini Quindi secondo me anche un bel triunfello epico si potrebbe fare Forse, forse Dico forse Ragazzi, la vedo male Non so perché ma la vedo un po' male Non è vero La vedo bene, la vedo bene La vedo benissimo Qua vediamo se forse Scodella riesce a chiudere Facendo un bel gol E tiro Scodella Proprio lui Sta facendo tutto Scodella, ragazzi Ma è un animale Con Victor e Pic Vignita ha lasciato la chat C'è unita la chat Sono d'accordo Attenzione Ragazzi Proprio noi È l'ultimo game Ecco Già questa comp Mi preoccupa un po' Se posso dirlo Non vorrei dirlo Ma lo devo dire Allora intanto Si è preso una bella bottazza Energetica Se poi magari Riuscissimo In qualche modo Bello Sì ragazzi Va a morire Occhio però Maxine No, 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 no Wow, wow, wow Wow, wow, wow Calma Che stai a scherzare Bomberissimo Anzi Bomberissimo Ma poi io non dico mai Bomberissimo Perché ho detto Bomberissimo Non sono mica Gabbo di Squared Attenzione Proprio noi Quelli veri Non dei fake Attenzione Potremmo E dico Potremmo E dico Potremmo E dico Potremmo Morire Morire Anzi Scodella Oddio ho visto Scodella No, peccato Stavo facendo la place Della vita Però la valla Adesso è lì Qua tiro qualche bella Botta Ah No No, 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 no Oddio raga Ho paurissima No, raga No, 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 no No, 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 no Oddio Eccala 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 Però c'è zione Scodella È partito Scodella Proprio lui Proprio lui No, è morto ancora No, raga Qua bisogna un po' Darsi una bella mossa Concentrarsi Impegnarsi Tutte queste belle cose Perché la vedo male Mamma mia Ma io muoio sempre ragazzi Ma sono un bo No Che cosa Equipa adversa Ma che Cosa ho visto Com'è passata la palla Non lo so No, ragazzi Aspetta ora Ragioniamo un attimo Aspetta, aspetta Aspetta Vabbè, è un gol Sì, ci sta No No Non volevo usarla ulti così Vabbè No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Scodella spazza No, 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 no No Niente mille più De faette Come si pronuncia Non lo so Non è comunque un problema 980 In teoria Sono ancora primo E quindi sì Vabbè ragazzi Non c'è problema Siamo a 980 Siamo primi in Mayotte Primi in Mayotte Riordo regione francese Che sta a sud dell'Africa Io mi trovo lì In questo momento Anzi in realtà Sono in Francia Vedete C'è la torre Eiffel Però Adesso Magicamente Eccoci qua Siamo a Mayotte Siamo ritornati Nella mia terra Come vedete Un'isola veramente bellissima Che acqua cristallina Dove siamo A Mayotte appunto Non so Per dire le Maldive Ma qua è più bello Venite a trovarmi Siamo 200.000 abitanti Venite a trovarmi Che forse avrò qualche competitor Per la sete di potere Grazie salvo Grazie RXR Salvo per l'abbonamento Ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Come detto È tutta ironia Non prendete troppo seriamente Basta guardate La mia faccia Che Che Come se ne potrebbe mai dire Mi raccomando Se il video vi è piaciuto Un bel like Iscrizione Campanellina Tutto Tattica tattica Noi come sempre Ci vediamo alla prossima Con un nuovo video Bellissimo